Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. L'attivazione metabolica della via triptofano-chinurenina può spiegare il collegamento reale tra patologie autoimmuni e carenza di serotonina. Allora, normalmente il precursore della serotonina è il triptofano, che avrà il tempo di convertirsi all'interno del nostro organismo in serotonina, che è, ricordo, il neurotrasmettitore della felicità, quindi ci impedisce di essere tristi, di essere depressi, di avere ansia. E, dall'altra parte, la serotonina è anche precursore della melatonina, quindi la melatonina che va a regolare tutti i ritmi sonno-veglia, dormire durante le giuste ore della notte, non mi risveglio durante la notte. Ora, cosa può succedere? Può succedere che una infiammazione cronica sistema, quindi un eccesso di citochine pro-infiammatorie nel nostro organismo, può attivare un enzima, la IDO. Questo enzima va a prendere il triptofano e lo va a degradare velocemente. Alla stessa maniera, un aumento di cortisolo, il cortisolo viene incrementato da una parte dall'infiammazione, ma, dall'altra parte, da uno stress cronico, alla stessa maniera prende il triptofano e me lo degrada velocemente. Qui non avrò la possibilità di convertire il triptofano nella giusta concentrazione di serotonina. Ecco come cortisolo alto, lo stress e l'infiammazione cronica sistemica vanno a creare e a determinare un abbattimento dei valori di serotonina. I primi segnali di una carenza di serotonina sono proprio appannaggio della famosa fame nervosa, una voglia costante di dolci, ma anche di salato in determinate persone. Diciamo la cosa in comune è che è un'alimentazione con un alto indice glicemico. Quindi cosa succede? Subito dopo aver introdotto dolci, in maniera quindi nervosa, o aver introdotto comunque cibi salati ad alto indice glicemico, abbiamo immediatamente dopo un avvertimento di sonnolenza, di ansia e di depressione. Questo dato dall'oscillazione proprio della glicemia e l'intervento quindi dell'insulina all'interno del nostro organismo. Ancora l'abbassamento della serotonina, abbiamo detto che essendo il precursore della meratonina, abbiamo delle problematiche nei ritmi sonno-veglia principalmente, quindi persone che hanno difficoltà a tormentarsi, nei risvegli notturni o un sonno non risteratore. In più la carenza di serotonina mi crea una problematica di abbassamento della libido, quindi la voglia sessuale, e disordini a livello di tutti i ritmi castrointestinali, quindi da reflusso gastroesofaceo, acidità di stomaco, stitichezza, diarrea, scariche e via dicendo. Come si può intervenire in tutto questo? Da una parte con la fitoterapia è importante utilizzare, a mio avviso, la cis-rhodiola-rosia, quindi la soluzione idroalcolica spagilica, è quella che consiglio io, di rhodiola-rosia, che va ad abbattere questa via metabolica della triptofano-chinurenina, e quindi mi va a riportare l'equilibrio di biochimica, di biosintesi, dal triptofano verso la produzione di serotonina. Dall'altra parte dobbiamo intervenire nell'abbassare il cortisolo alto, e qui utilizzo una quintessenza spagilica, che è la quintessenza di camomilla, bastano tre gocce tre volte al giorno e si riduce il cortisolo alto, e poi ovviamente inserire una alimentazione antinfiammatoria, cercando di ripristinare l'infiammazione della mucosa intestinale, che mi provoca la permeabilità intestinale, e comunque un'alimentazione dove l'importante è mantenere stabili per l'intera giornata la glicemia e l'insulina nel sangue, i livelli stabili tutto questo, perché le oscillazioni, quindi inserire questi alimenti ad alto indice glicemico, mi creano sempre delle problematiche tra cortisolo, serotonina, alla leptinoresistenza, che poi è tutto collegato veramente all'insorgenza di queste patologie autoimmuni. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro, il concetto era complicatissimo da far passare in maniera semplice, se il video ti è piaciuto metti mi piace, condividilo con i tuoi amici, e iscriviti al canale YouTube. Ciao, grazie!